Diverso da quello Ferrari, bello No, è bella ragazzi, davvero bella, obiettivamente Madonna mia, ieri ho detto che la libra da Williams era stupenda Questa anche, questa davvero bella come libra Bella, cavolo, proprio bella Eccola qui ragazzi, l'Alfa Romeo C43 Alfa Romeo 2023 Allora, si possono già vedere delle differenze rispetto all'anno scorso Soprattutto nella parte, nella zona Coca Cola Vedete qua, nella zona posteriore, proprio questo canale che arriva nella zona del diffusore del Bim Wing Che serve per indirizzare meglio i flussi Quella è una cosa che ha dato il via, diciamo, Red Bull l'anno scorso da Silverstone con quella modifica E Alfa Romeo riprende questa, questa cosa Sistema di sospensioni, push row dall'anteriore, pull row dal posteriore Quindi classico come l'anno scorso Poi, cerchiamo di vedere un po' di cose diverse Le pance mi sembrano un pochino più strette ma simili a quelle dell'anno scorso Non tanto diverse Molto diverso il fondo qua Che ha una soluzione molto innovativa Non l'ho mai vista questa soluzione qui sul fondo ragazzi Forse per l'effetto purposing magari Che si aspettano di avere un po' più di purposing Quindi l'hanno fatto per quello Molto strana quella cosa lì Che non l'avevo mai vista Quindi interessante Bella, anche la zona dell'hairscope è abbastanza diversa Ne ha tipo uno incastrato in un altro Quindi anche lì un po' strana Però bisogna vedere un'immagine anche frontale per capire meglio l'hairscope Però, allora, come livrea, come ho detto Carina, bella Ci sta questo ritorno al nero, secondo me Tanti sponsor Steak è presente sulla monoposto Ma non è uno sponsor dominante Come abbiamo visto per esempio Monegram su us Che era troppo presente, secondo me E quindi ci sta Mi piace Come voto Do nove Non posso dare di meno È bella Perché comunque sono i miei colori preferiti Perché il rosso e il nero Ragazzi sapete che sono i miei colori preferiti Il monoposto bianco A me non piace tantissimo Questa qua è nera e rossa Quindi è davvero davvero bella Commentare giustamente Allora L'hairscope vedete che è incastrato E questa è una soluzione molto strana E le pance sono molto strette nella parte inferiore E più larghe nella parte superiore Io ve l'ho detto Questa cosa qua L'ho fatto un video a riguardo Ho detto Attenzione Che molti team riprenderanno questa soluzione Molto scavato sotto Per essere più larga sopra la pancia Questa è una cosa che riprenderanno Siccome anche altri team Quindi attenzione Pance più larghe Una Ferrari 2.0 Non lo so Secondo me mi sembra un po' diversa Soprattutto la parte posteriore Perché mi sembra molto larga Però sì è vero che Ha delle pance molto larghe sopra Però mi sembra un concetto aerodinamico Leggermente diverso Perché questa qua è molto più scavata sotto Mentre la Ferrari ci ricordiamo L'anno scorso era più larga sotto E aveva questa insenatura Sopra le pance Mentre questa è più scavata sotto L'insenatura sopra le pance Non ce l'ha Ha solamente le feritoie Quindi questa cosa qua è interessante Molto interessante il fondo anche Come vedete La parte posteriore del fondo Che secondo me l'hanno fatto Per il poor posing probabilmente Sì non è uguale a Ferrari ragazzi È una personalità definita Molto interessante Come ho detto anche prima Questa parte qui del fondo Davvero molto interessante Perché genera tanti vortici Una soluzione aerodinamica così Bisogna vedere se l'hanno fatto Per un effetto outwash Quindi per mandare l'aria al di fuori Della monoposto Oppure per cercare di indirizzare meglio I flussi nella zona del B wing del diffusore Questa è una cosa che Bisognerebbe vedere con una prova In galleria del vento col Cfd Per vedere un po' i dettagli Però quella soluzione lì Mi sembra quella più interessante Per ora Questa del fondo E anche le airscope Carbonio ha visto Alleggerisci qualche chilo Sì ragazzi Come ho detto Queste parti in carbonio L'anno scorso abbiamo visto Per esempio con Williams Servono per cercare di Alleggerire La monoposto E Quindi Possono piacere Possono non piacere Però Hanno una funzione Diciamo Effettiva Questa Monoposto l'anno scorso Vedete Le panci sono molto più larghe Scendono Più verticali E hanno questa presa d'aria Molto grande Meno orizzontale Possiamo dire Un po' più verticale Mentre ora vi faccio vedere Quella di quest'anno Qua si vede Vedete qua Quanto è più piccola Eh scusate Qua Quanto è più piccola Anche la presa d'aria E si sviluppano più Orizzontalmente E sono molto più scavate sotto Anzi Neanche tantissimo Orizzontalmente Adesso Vedremo l'immagine frontale Che è più affidabile Però È molto più larga In verticale La presa d'aria Della pancia Quindi questa è una cosa Si può notare Quanto è più Quanto è scavata sotto Ragazzi È incredibile Cioè da questa immagine È una scavatissima sotto Madonna Proprio per indirizzare I flussi Nella zona posteriore La differenza Come abbiamo detto Sistemi sospensioni Push road all'anteriore Pull road al posteriore Quindi Classico Molti dicono Che i Ferrari Potrebbero utilizzare Il pull all'anteriore Come Red Bull E quello sarebbe Un gran cambiamento Ma un gran cambiamento Secondo me no Però Non lo so Cioè non lo so Non voglio sbilanciarmi Vedremo settimana Sì poi ragazzi Si cercherà anche Di smussare molto L'angolo tra fondo E diffusore Come abbiamo detto più volte Per il purpose In quello Per il purpose Però la zona Coca Cola È molto larga ragazzi Guardate quanto cavolo è larga Adesso vediamo Se l'anno scorso Era così larga Che non mi ricordo Ma era molto più stretta Anche era molto più aderente Anche al tubo di scarico Però in generale Era più stretta Quest'anno È davvero gigante Guardate Molto larga Perché giustamente Facendo le punch Così strette Devi mettere I radiatori Da qualche parte Anche l'intercooler Devi sistemarlo Più al centro Come ho detto anche Quest'anno ho fatto un video Dove ho parlato Della Red Bull Ho detto Riprenderanno molti Questo schema Nel senso che Sposteranno In generale Tutti i componenti del motore Che hanno bisogno Di raffreddamento Nella parte centrale Più che nella parte esterna Così riesce a creare Dei flussi Che arrivano Alla zona B-wing diffusore E Allarghi un po' La zona Coca Cola Ma creando Quell'effetto lì Che ha ripreso Red Bull L'anno scorso A Sivestone Sulla zona del cofano motore Riesce a indirizzare I flussi Quindi non è un problema Dal punto di vista Aerodinamico È meglio fare Questa soluzione Qui Sì esatto Poi bravo Davide Come notare Come i sfoghi D'aria del cofano motore Indirizzano proprio Sulla B-wing Questo è vero Per una gestione migliore Dei flussi Aria calda Per generare carico Sì assolutamente Sono d'accordo Con te Può essere E l'hanno pensata In questo modo C'è quella parte posteriore Molto larga Molto larga Che è un po' Insolita Di solito L'abbiamo vista L'anno scorso Molto più stretta Invece quest'anno È più larga Molte L'anno scorso Per esempio Ferrari Arrivava con le pance Proprio alla fine Poi si scavava Molto nella zona del B-wing Per dare più spazio Per i flussi Quindi sta cosa qua Della parte posteriore Nella zona Coca Cola Così larga È sì un vantaggio Perché puoi mandare L'aria calda Nella zona del B-wing Ma al tempo stesso I flussi freddi Di aria Che arrivano Dalle pance Hanno meno spazio Per andare Nella zona del B-wing Ed è l'ala posteriore Vedete che Banalmente qui Hai meno spazio Per mandare i flussi Quindi può essere Un punto positivo Ma anche Comunque sì Doppio Air Scoop Ragazzi Adesso lo faccio rivedere Anche immagine Più frontale Si vede già qua Come se ci fossero Anche due canali Di raffreddamento Perché se Tu vai a dividere Le Air Scoop In questo modo Al posto di farne Uno largo Vuol dire che Sono anche due canali Di raffreddamento C'è quell'area lì Che arriva Nella parte inferiore Dell'Air Scoop Arriva Nella parte del motore L'altra area Che arriva Nella parte superiore Arriva magari Nella parte più Posteriore Più tubo di scarico Magari Sto pensando Perché hanno diviso Le Air Scoop In due parti Davvero Il sistema Cioè Le Air Scoop Così Che è anche Una sorta di Ro loop Alla fine Perché ha Un Il sistema Del loop È anche diverso Rispetto a quello Dell'anno scorso Su me a me more Anche l'incidente Di Joe A Silverstone Hanno cambiato Anche per quello E quindi Interessante Interessante Le Air Scoop Ragazzi Quella è la parte Forse una delle parti Più interessanti Questa è un'immagine Dal vivo Anche a monoposto Comunque rispecchia Il render Non mi sembra Troppo diverso Molto scavato Qua ragazzi Si vede La immagine Dal vivo Però era come Nel render Più o meno Ci sta Però bella Ragazzi Bella Bella Ovviamente dal vivo Queste parti in nero Rendono poco Cioè Non sono Verniciate Quindi Lasciano un po' Così Però è bella Nera rossa Ok ragazzi Vi ringrazio tutti quanti Per essere stati in live Applauso Per tutti quelli Che sono rimasti Fino alla fine Quelli che sono qui ora Vi ricordo Come sempre Iscrivetevi Attivate le notifiche Per non perdervi Nessuna live Grazie a tutti Grazie a tutti